Bella raga, dal vostro grande Capitano Napoli, benvenuti in questo nuovo video. Appena terminato, Crotone Lazio, valevole per l'anticipo dell'ottava giornata di Serie A, ed è finita con una vittoria convincente della Lazio, Crotone 0, Lazio 2, con gol del primo tempo, il ventunesimo di Cerimobile, bello il gol di Mobile, su Ars, di parole, bel colpo di testa in tuffo, molto angolato del 1-0, nel secondo tempo, bel gol di Corea, al cinquantottesimo del secondo tempo, su Ars, di Cerimobile, bel gol di Corea, che è uno spazio molto stress e decentrato, ha fatto il gol del 2-0, la Lazio poteva fare il terzo, c'è stata qualche buona occasione anche per il Crotone, partita un po' condizionata dal terreno, secondo me, al limite della praticabilità, vittoria meritata della Lazio, una Lazio che ha chiuso la partita intorno al cinquantottesimo col gol del 2-0 e, insomma, adesso, Lazio sale a 14 punti, mentre il Crotone rimane fermo all'ultimo posto con solo due punte e non ha ancora vinto una partita in otto partite, finora di serie a disputate. Mettete un bel like a questo video, chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale. Un buon proseguimento di serata dal vostro grande Capitano Napoli, ciao a io!